la maggioranza si è aperta questa parlando di maggioranza di governo una sfida nuova vecchia nuova tra Giorgia Meloni e Salvini che ha riunito domenica tutto il fiorfiore della destra estrema europea è un duello reale questo un gioco delle parti no è un duello di un duello reale di potere Salvini è marginato diciamo non da oggi auto è marginato si dopo la crisi del papete del 19 si agita non fa altro che agitarsi poi attribuirgli delle patenti ideologiche è ridicolo non dimentichiamo che Salvini debuttò nella Lega come leader della corrente dei comunisti padani adesso si circonda amabilmente di fascisti nazisti eccetera quindi non ha nessuna ideologia è uno che si agita che dove vede un buco cerca di entrarci per cercare nuovi spazi e non farseli rubare tutti dalla Meloni dato che la Meloni si è completamente appecoronata all'establishment italiano ed europeo lui fa l'anti establishment ma è anche abbastanza ridicolo inseguirlo in queste evoluzioni in queste pirouette perché quando faceva comodo Salvini per buttare giù Conte i grandi giornali di establishment lo portavano come una bandiera dicevano che era diventato moderato adesso che la Meloni si è buttata sull'establishment vanno tutti a scoprire che Salvini è sempre Salvini e cioè uno che sarebbe capace di diventare buddista musulmano che ne so qualsiasi cosa pur di tirar su qualche voto che poi farsi vedere costi nazisti tra l'altro di terza categoria perché quelli veri l'hanno pure schifato gli porterà chissà quanti voti io ne dubito non vedo in italia un grande fervore una grande passione per il nazismo adesso si può dire di tutto ma insomma non credo per questa per la destra estrema invece sì